Clamoroso in casa Akragas dopo appena due partite, una vittoria ed una sconfitta, il tecnico Pino Rigoli ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'Akragas per divergenze tecniche con la squadra. Tutto è scaturito dopo un confronto con la squadra alla ripresa degli allenamenti dello scorso martedì. La società preso atto della situazione ha accettato la divisione del tecnico peloritano. In una nota si legge, da parte di tutta la società va un sentito ringraziamento a Pino Rigoli per il lavoro svolto in queste due settimane. Tutto l'Akragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionale. Adesso si pensa ad un nuovo sostituto.